Alcune forme di inciviltà, invece di attenuarsi, si sono addirittura accentuate durante la pandemia. Stiamo parlando della cattiva abitudine all'abbandono di rifiuti in alcune zone del territorio, che, come ci troviamo a raccontare sempre più spesso, sta portando ad un fiorire di discariche abusive, dannose per l'ambiente e il decoro urbano, come quella che potete vedere in queste immagini e che abbiamo scoperto grazie alla segnalazione di un nostro telespettatore. Ci troviamo lungo la via Sarzanese, sul tratto di strada che precede l'imbocco del Monte Quiesa. Una volta arrivati sul posto, ai lati della strada abbiamo trovato di tutto. Plastica a non finire, elettrodomestici, residui plastici, resti di pneumatici, oltre a sacchetti della spazzatura lasciati in svariati punti lungo il ciglio della strada. Una pratica indecorosa che non cessa di essere consuetudine per incivili, che imbarba la praticità della raccolta differenziata, scambiano le piazzole di sosta come luoghi dove conferire l'immondizia di casa e continuano a ricorrere a questo sistema illecito.